Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati nel mio canale io sono Giorret e oggi parliamo del Grande Fratello Vip nona puntata durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 2020 Andriana Volpe è stata incaricata da Alfonso Signorini a raccontare ad Antonella e Elia delle foto di un presunto tradimento del fidanzato Pietro che verranno pubblicate nel settimanale nuovo e mi hanno fatto vedere delle immagini siccome io le ho viste e hanno detto che è successo qualcosa no e questo parti dal fatto che siccome io le ho viste le foto il giornale nuovo ha fotografato Pietro con una ragazza il giornale nuovo ha fotografato Pietro con una bionda si vede da dietro le foto le ho viste facciamo questo di mestiere tu stai facendo il programma più importante del palistesto ed è normale che tu sia estremamente pappabile lo hanno fotografato spiega con fare materno e delicato Adriana Volpe ad Antonella e Elia poi continua di schiena potrebbe essere chiunque sono foto che io avessi visto mio marito avrei detto vabbè vedo che la conosce ne prendo atto l'unica cattiveria che hanno fatto è cerchiare la foto in cui probabilmente si tiene per mano io ho visto le foto non c'è niente sono due persone che stanno camminando mi hanno dato questo compito perché domani uscirà in edicola Antonella e Elia per un attimo tira un sospiro di sollievo e dice l'importante che non sia morto nessuno pensavo forse la mia matrigna poi però si scioglie in lacrime e commenta Adriana io capisco se Pietro mi lasci io sono più vecchia di lui 11 anni quello che deve ricordare prosegue la volpe è il bacio che vi siete dati fregatene prima di sentire qualunque altra campana devi sentire Pietro non avere neanche un secondo di esitazione senti entra un tarlo hai un dubbio parla con me io quelle foto le ho viste poco dopo Antonella e Elia viene chiamata nel mystery room dove guarda le foto del fidanzato vuoi vedere queste fotografie? le vuoi vedere? perfetto allora io te le faccio vedere grazie ecco qua ad inizio Antonella e Elia non riconosce la bionda ma poi Alfonso Signorini gli dice il nome si tratta di Fiore l'Argento la sorella di Asia Argento è lì che Antonella riconosce la ragazza esclamando è la sua ex questa me la paga cara brutto disgraziato guarda che faccia romantica questa me la piaghi e poi minaccia di fidanzarsi con Aristide altra notizia importante Carlotta ha deciso di abbandonare la casa una decisione sofferta ma necessaria per Carlotta che è sembrata molto insofferente mi manca l'aria qui dentro ha dichiarato la miss le nomination di questa nona puntata sono Barbara, Adriana Volpe, Fabio e Michele Cucuzza con questo ho concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da Joe Red a